Ciao ragazzi e ben ritrovati su Onofro Garage. In questo video vi farò la presentazione di come sarà realizzato l'impianto elettrico nella camera da letto. Da premettere che questo sarà un impianto elettrico realizzato con le tracce alle pareti, visto che non dovrò toccare il pavimento e approfittando del fatto che ho tutti i muri portanti. Ho già preparato uno schema di come sarà disposto l'impianto elettrico che andremo a vedere subito, ma successivamente, sempre in questo video andremo a tracciare realmente le cassette nelle pareti. Allora ragazzi, questo è lo schema come sarà disposta la camera da letto. Questo è l'ingresso alla camera da letto, dove abbiamo una presa bassa e una cassetta alta dove si accenderanno le luci della camera da letto. Qui c'è il comò con la presa vicino al comò. Queste sono due cassette come predisposizione tv, dove ci sarà la possibilità di mettere la tv sia in parte bassa e sia in parte alta. Questo è l'ingresso alla cabina armadio con una parete che sarà creata in cartongesso. All'interno della cabina armadio abbiamo una PT7 e una PT6. saranno queste due cassette di derivazione dove la PT7 è la 30x15 e la PT6 è la 20x15. Poi ci sarà una traccia che attraversa questa parete e arriva a una PT6 messa qua, dove si può derivare l'ingresso alla parete in cartongesso e da qui un tubo che va alle prese del letto. Una e due sono le due prese del letto e poi con una in tre desci arriveremo a una presa che sarà messa in quest'angolo. Poi avremo da questa PT6 una traccia che sale per illuminare la cabina armadio e da questa cassetta ci saranno due tracce che saliranno una per illuminare la camera da letto e una per una lampada d'emergenza che sarà montata sopra la porta. Eccoci ragazzi siamo qui nella prima parete dove sarà posizionato il comò, la predisposizione tv e le cassette di derivazione. Per cassette di derivazione ho la 20x15 che è la PT6 e la 30x15 che è la PT7. Andrò a fare una linea a 30 cm dal pavimento a fare una linea a 30 cm dal pavimento. E' la prima parte di arrivare la parte di Questa è la PIT 6. Andrò a lasciare tra una cassetta e l'altra circa 5 cm. Qui ho già questi due tubi blu che porteranno il segnale alla PIT 6 e questi due tubi neri che porteranno l'alimentazione alla PIT 7. Nella camera in armaria ho lasciato uno spazio utile di 1,5 m. Ci sarà una parete dello spessore di 12 testine. Da questa parete lascerò 15 cm. E' sempre a 30 cm di palpamento. Ci saranno messe due cassette 503 dove sarà una la presa elettrica e sempre a 5 cm dall'altra ci sarà messa la presa TV. Poi da qui ci sarà una traccia dove andrò a salire due tubi sia per la presa TV sia per la presa elettrica che verranno messe esattamente a 2,20 m dal pavimento. E comunque sarà riportata la stessa linea di quelle di sotto. Adesso ho spostato l'alimentazione all'alimentazione. Spostandomi a un metro dalla parete della cabina armadio andrò a mettere la presa per il comodo. Vado a fare sempre i 30 cm dal pavimento. Da qui lascio sempre 15 cm dalla parete. 30 cm dal pavimento per la presa e un metro a salire per la cassetta degli interruttori. 30 cm dal pavimento per la presa. Invece di utilizzare una 503 andrò ad utilizzare una 504. Visto che già so che divederò l'illuminazione della camera da letto con due accensioni. Avrò il pulsante che accenderà la parte dell'ingresso alla camera da letto. E poi, non si sa mai, potrà nascere qualcos'altro. Passiamo adesso a questa parete che non ci saranno cassette ma ci sarà semplicemente una traccia che collegherà dalla cassetta di derivazione la PT7 a un'altra PT6 che andrò a mettere in questa parete. e adesso la andiamo a segnare in maniera corretta. Da questo lato lascerò un po' di spazio in più tra la parete e la cassetta di derivazione. andrò a lasciare 30 cm e 30 cm dal pavimento. ci sarà messa la PT6. Da questa PT6 ci sarà una traccia per portare l'illuminazione a una striscia a led che illuminerà l'interno della camera armadio. e poi da qui proseguirò con un tubo per alimentare le prese del letto e poi ci sarà un tubo che andrà ad entrare all'interno della parete che diriderà la cabina armadio. quindi andiamo a vedere sempre un metro e cinquanta e dieci centimetri di parete. questa è la parete della cabina armadio. quindi uscirò un tubo da qui per entrare dentro la parete dove andrò a portare sia l'alimentazione alla presa in quest'angolo della parete e sia alla cassetta dove sarà accesa la luce della cabina armadio. e poi un altro tubo che arriverà alle prese del letto. le prese del letto saranno esposte in questa maniera. lascerò 60 centimetri da questa parete che è lo spessore dell'armadio e poi dall'armadio vado a vedere quanto spazio utile mi rimane. quindi qui ho due metri e qui appoggiando a parete e a tre metri c'ho un altro un metro e 85 quindi poi in totale tre metri e 85 che diviso due saranno circa un metro e 92 e mezzo. questo dal metro e 92 e mezzo che è questo è il centro dove verrà il letto. questo è il centro del letto. dal centro del letto andrò a mettere una cassetta a un metro dal centro sempre con i 30 centimetri dal pavimento. e un'altra cassetta sempre da questo lato a un metro dal centro del letto. e qui ci sarà la traccia che collega. e qua e qua. e da questa presa uscirò. ci sarà un entra ed esci tra queste cassetta. arriverò in quest'angolo e a 15 centimetri dalla parete sempre 30 centimetri dal pavimento vado a creare una presa. qui nell'ingresso ci sarà una traccia che collega le due cassette. e da qui la traccia che andrà ad alimentare questa cassetta. e poi da qui dalla 504 salirò due tubi. un tubo salirà all'interno del controsoffitto e un tubo andrà direttamente sopra la porta dove sarà montata poi una lampada di emergenza. ragazzi un'ultima cosa aggiungo oltre ad entrare nella parete in cartongesso da questo lato andrò ad entrare anche dal lato vicino alla porta. quindi questa è sempre la parete in cartongesso. dalla pt7 salirò e andrò a fare una traccia che supera l'altezza della porta che sarà messa qui. e andrò a chiudere ad anello il tubo che attraversa l'interno della parete in cartongesso così se ci sarà un imprevisto per entrare nella parete da un lato magari posso sfruttare l'altro lato di ingresso. ragazzi spero che la disposizione dell'impianto elettrico vi sia piaciuta. come sempre invito a chi non si è ancora iscritto ad iscriversi al mio canale e noi ci vediamo nel prossimo video con l'inizio delle tracce. ciao ragazzi! ciao 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 ciao